Tentato omicidio nell'Agrigentino, quarantenne ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Aggredito il titolare di diversi supermercati a Gela, solidarietà di Sicindustria Caltanissetta, Annunzio Di Pietro. Incidente stradale nel centro di Villa Rosa, un bambino in prognosi riservata a Catania. Cambia il reddito di cittadinanza, si chiamerà Mia, secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, la riforma sarebbe vicina. Sport, calcio, eccellenza, Cus Palermo vittorioso al Tomaselli, Nissa superata dalla penultima in classifica, dodicesima sconfitta stagionale. Bentrovati, montante il processo rimane nel capoluogo nisseno, al momento non sarà trasferito a Catania. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso sulla nomina di Nicolò Marino a procuratore aggiunto di Caltanissetta. Il processo sul cosiddetto sistema montante per il momento rimarrà a Caltanissetta e non sarà trasferito a Catania. Il Tar del Lazio, infatti, ha accolto il ricorso del sostituto procuratore Pasquale Pacifico, attuale sostituto al Tribunale di Caltanissetta, sulla nomina di Nicolò Marino, GIP del Tribunale di Roma, procuratore aggiunto di Caltanissetta. È quanto affermato in aula il pubblico ministero Maurizio Bonaccorso. Domani intanto il Consiglio di Stato dovrebbe dichiarare il neologo a procedere sull'appello cautelare proposto da Nicolò Marino in considerazione del fatto che già è intervenuta la sentenza di merito. Nell'udienza dello scorso 5 gennaio Marino, tramite il suo legale, aveva comunque comunicato di rinunciare alla sua costituzione di parte civile, da cui l'ipotesi di trasferire il processo a Catania. Si attende quindi ora la decisione di Marino per un eventuale appello alla decisione del Tar del Lazio. Tentato omicidio nell'Agrigentino, quarantenne ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Un uomo, un bracciante agricolo di 44 anni, che si trovava a bordo dell'auto, è stato colpito da alcuni colpi di fucile al collo. L'agguato è avvenuto nella strada statale 115, nei pressi del bivio di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, alle 7 circa del lunedì mattina. L'uomo ferito ha chiesto aiuto ed è stato soccorso e portato all'ospedale San Giacomo d'Altopasto di Licata. Successivamente le sue condizioni si sono aggravate ed è stato necessario trasferirlo al Sant'Elia di Caltanissetta. Secondo una prima ricostruzione, l'auto dell'uomo è stata affiancata da un'altra automobile, da cui sono stati esplosi i colpi. Gli autori dell'agguato si sono sbarazzati dell'auto, una vecchia Fiat Punto risultata rubata e del fucile utilizzato per sparare. L'utilitare è stata abbandonata sotto un cavalcavia, a poca distanza dal luogo dell'agguato, ed è stata incendiata. All'interno è stato lasciato il fucile, trovato bruciato dalle fiamme. La vittima dell'agguato di Palma di Montechiaro, secondo le prime indagini dei carabinieri, non risulta essere inserito all'interno di contesti criminali. Aggredito il titolare di diversi supermercati a Gela, solidarietà di Sicindustria, a Caltanissetta, a Nunzio Di Pietro. Nunzio Di Pietro, commerciante di 60 anni, titolare dei supermercati Sisa, è stato aggredito a colpi di spranga a Gela. L'uomo è stato rapinato sabato nel quartiere Macchitella, nel comune in provincia di Caltanissetta, da alcuni malviventi mentre stava per fare rientro nella sua abitazione. Lo hanno colpito alla testa con delle spranghe, poi gli hanno portato via il borsello all'interno del quale era contenuto denaro in contante e altri oggetti personali, tra cui le chiavi delle attività commerciali. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice rosso per un trauma cranico. È intervenuta la polizia che sta cercando di identificare gli autori dell'aggressione. Non si è fatta attendere la solidarietà di Domenico Lorefice, presidente degli industriali Nisseni, che ha voluto esprimere la massima solidarietà a Nunzio Di Pietro per quanto accaduto, portando la vicinanza di Sicindustria a Caltanissetta alla famiglia. Il commerciante fortunatamente è stato dichiarato fuori pericolo dai medici. Assistere ancora oggi a episodi del genere, continuo all'orefice, è assurdo oltre che impensabile. Le indagini sono in corso e io confido nell'operato delle forze dell'ordine affinché riescano a trovare responsabili di questo gesto inaudito e al tempo stesso auspico di riuscire a definire con le istituzioni un percorso comune per evitare che episodi come questo possano ripetersi in futuro. Non è più possibile, conclude, rischiare la vita in questo modo. Incidente stradale nel centro di Villa Rosa, un bambino in prognosi riservata a Catania. Si trova in prognosi riservata il bambino di nove anni che sabato scorso, 4 marzo, alle 19 circa è stato investito in via Garibaldi, nel centro di Villa Rosa, in provincia di Enna. Il bambino sarebbe stato investito da un giovane alla guida di una Fiat Bravo che si è fermato a prestare soccorso. Le condizioni del piccolo sono subito apparse gravi, così è stato trasportato in elisoccorso in un ospedale di Catania, mentre sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri. Saranno i militari a cercare di fare ulteriore chiarezza sul tragico episodio e ricostruire la dinamica esatta del sinistro. Intanto il ragazzo è stato sottoposto ai controlli per stabilire se fosse sotto l'effetto di alcol o di droga. Ravanusa, momenti di tensione tra tifosi prima della partita di calcio tra Canicatti e Licata, danneggiate diverse autovetture. Doveva essere una domenica di sport, così purtroppo non è stato. La partita fra Canicatti e Licata, valida per la ventisesima giornata del girone I di Serie D, si è presto trasformata in attimi di tensione fra le due tifoserie. L'episodio si è verificato domenica pomeriggio all'esterno dello stadio Saraceno di Ravanusa in provincia di Agrigento, durante il derby agrigentino fra Canicatti e Licata. Sono state almeno cinque le auto danneggiate. La polizia, i carabinieri e la guardia di finanza, presenti per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica allo stadio di Ravanusa, nel tentativo di evitare il contatto fra le due tifoserie, sono state bersagliate dal continuo lancio di sassi e bottiglie di vetro. Cambia il reddito di cittadinanza, si chiamerà mia, misura di inclusione attiva. Cambia il nome, ma cambiano anche i criteri di accesso e la platea dei beneficiari. Secondo quando anticipato dal Corriere della Sera, la riforma del reddito di cittadinanza è pronta. Nelle prossime settimane la Ministra del Lavoro, Elvira Calderone, dovrebbe portare in Consiglio dei Ministri il decreto legge. Il testo è al vaglio del Ministero dell'Economia, perché per fare tutto, compreso l'allargamento della platea di lavoratrici ammesse opzione donna e il rafforzamento delle politiche attive, servirebbe quasi un miliardo di euro. Il nuovo strumento di sostegno sociale, la cui partenza è prevista a settembre, si chiamerà mia, misura di inclusione attiva. La misura scatterà già quest'anno, dopo i sette mesi di proroga, accordati ai beneficiari del reddito GD cittadinanza con la legge di bilancio 2023. La mia si dovrebbe quindi poter chiedere d'agosto più realisticamente dal primo settembre, come spiega il Corriere della Sera. I potenziali beneficiari in linea con quando deciso con la manovra verranno divisi in due platee, famiglie povere senza persone occupabili e famiglie non occupabili. Le prime sono quelle dove c'è almeno un minorenne o un anziano o versessando un disabile. Le seconde quelle dove non ci sono queste situazioni, ma almeno un soggetto tra 18 e 60 anni d'età. In entrambi i casi, però, la riforma prevede una stretta negli importi e nella durata del sussidio. Queste famiglie si legge e continueranno a ricevere un sussidio, la mia appunto, il cui importo base dovrebbe restare di 500 euro al mese come nel reddito. C'è invece ancora discussione sulla quota aggiuntiva nel caso in cui il beneficiario debba pagare l'affitto. Il reddito prevede fino a 280 euro al mese. Con la mia, questa quota potrebbe essere alleggerita e modulata sulla numerosità del nucleo familiare, ma la stretta maggiore colpirà gli occupabili. Qui l'ipotesi che ha più chance è quella che vede l'assegno base ridotto a 375 euro. Abbiamo contattato l'assessore in merito Cettina Andaloro che attende di sapere con precisione di cosa si tratta e che interessa un notevole numero di famiglie. Disegno di legge sulla riorganizzazione delle province. Parlano il presidente Schifani e l'assessore Messina. Abbiamo avviato il percorso per la reintroduzione delle province in Sicilia con l'elezione diretta di presidenti e consigli. Così il governatore della Sicilia, Renato Schifani, alla presentazione del relativo disegno di legge adottato dalla Giunta. Il testo riprende la proposta depositata in Commissione Affari Costituzionali del Senato, adattata al contesto normativo siciliano. In un documento diffuso dalla Regione, Schifani si dichiara ottimista su un iter veloce in assemblea, attraverso anche un confronto con tutte le forze politiche. Le province saranno sei, più le tre città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Il progetto di riforma individua gli organi di governo e la loro composizione, introducendo la figura del consigliere supplente. Stabilisce inoltre le quote rosa nelle liste con almeno un quarto delle candidature riservato alle donne. Prevista la doppia preferenza di genere, come nei comuni, per le province con popolazione superiore al milione di abitanti, sono previsti 36 consiglieri e 9 assessori al massimo. Per quelle tra 500 mila e un milione di abitanti, 30 consiglieri e fino a 7 assessori. Per quelle con meno di 500 mila abitanti, è il caso di quella nissena, si potranno eleggere 24 consiglieri, mentre le giunte avranno massimo 6 assessori. Il disegno di legge fissa le competenze dei nuovi organismi. Alla conferenza di presentazione, anche l'assessore alle autonomie locali Andrea Messina, che esprime l'auspicio che si vada al voto già nel prossimo autunno o nella prossima primavera, considerato che ci sono delle condizioni che non dipendono soltanto dalla regione. Infatti, l'entrata in vigore della legge, dopo l'approvazione in assemblea regionale, è condizionata dall'abrogazione della legge del Rio da parte del Parlamento Nazionale. Le province abolite sono state rimpiante da tutti gli italiani, non vedo grandi resistenze sulla reintroduzione, si troverà naturalmente un'intesa sia con Lanci che con Lupi, ci saranno delle concertazioni, le audizioni sicuramente in commissione, però il dato è tratto, voglio dire, partiamo già da uno schema storicamente condiviso che aveva funzionato. Abbiamo assistito a decenni di commissariamenti delle nostre province e adesso così in attemperanza anche al nostro programma di governo, abbiamo ritenuto opportuno e l'abbiamo fatto in tempo record, come vedete, di ridare di nuovo vita alle province con il voto a soffraggio universale. Viaggio nella storia del liceo classico Ruggero VII, istituito nel 1863 a Caltanissette. Era il primo marzo del 1863 quando venne istituito il liceo ginnasio governativo, che dopo l'istituzione nel 1860 del liceo comunale provvisorio sostituisce definitivamente il liceo gesuitico. Che era stato fin dal 1809 l'unica scuola operante a Caltanissetta, si legge nella pagina dedicata alla storia nel sito del liceo Ruggero VII. Un nome che venne inoltre attribuito poco dopo. L'intitolazione all'ammiraglio e politico italiano scomparso proprio nel 1863 avvenne nella metà degli anni 60 con l'unificazione del liceo e del ginnasio. Furono anche gli anni in cui si spostò dal centro storico, dall'ex collegio gesuitico per arrivare nell'attuale sede, una zona che a quei tempi era periferica. Sono passati dunque 160 anni di storia per l'istituto che ha accolto tra i suoi studenti, docenti e dirigenti figure che hanno lasciato il segno nella storia, non soltanto locale. Il liceo ha quindi celebrato questo anniversario in tre giornate a partire proprio dal primo marzo, sino a venerdì 3 marzo, con un evento conclusivo in presenza delle autorità, ma che ha visto anche il coinvolgimento di ex allievi. Ci sono presenti i liceali per ogni decennio, sia simbolicamente rappresentati dai nostri ragazzi come se fossero i personaggi della storia, sia proprio presenti. Sono tanti gli ex allievi che stanno operando nel nostro territorio e anche fuori dal territorio, però questo voleva essere uno spunto per riflettere e far riflettere i ragazzi sugli obiettivi attuali del liceo, l'internazionalizzazione, l'inclusione, il potenziamento delle competenze, l'inserimento in qualità di persone formate nel mondo del lavoro, della società, dell'economia per risollevarla. È stato dedicato anche un momento di festa interno nella giornata di giovedì tra studenti, docenti e tutto il personale della scuola, una comunità di certo più numerosa rispetto a quella presente nella seconda metà dell'Ottocento. Real Maestranza, il sabbatino del capitano Giuseppe Mangione della categoria Idraulici nel segno della tradizione. Il secondo sabbatino di quaresima, in onore del capitano della Real Maestranza, il maestro Giuseppe Mangione della categoria Idraulici Stagnini, si è svolto nel pomeriggio di sabato 4 marzo. Dopo aver reso omaggio alla protettrice Madonna della Provvidenza attraverso la preghiera e la devozione, i membri della Real Maestranza si sono uniti in corteo e dalla chiesa di San Giuseppe hanno raggiunto la cattedrale di Santa Maria la Nova per partecipare alla cerimonia di passaggio delle cariche delle dieci categorie e alla Santa Messa celebrata dal sacerdote padre Gaetano Canalella. Abbiamo fatto il cambio di tutti i portabandieri e gli alabardieri del 2022 con quelli nuovi del 2023, mentre il cambio dei capitani è stato fatto domenica, prima domenica di quaresima. Il capitano Giuseppe Mangione in particolare ha manifestato grande commozione e orgoglio. Sono felice di avere questa carica quest'anno e di portare avanti con gioia questa carica che mi hanno dato i miei colleghi. Alla cerimonia era presente una rappresentanza dell'Unione Maestranze dei Misteri di Trapani. È un piacere ritornare a Cattanissetta dopo la pausa della pandemia e siamo qui come ogni anno, noi siamo gemellati con la Real Maestranza dal lontano 2000 e siamo ospiti del capitano, rendiamo omaggio al capitano, alle cariche capitanali entranti. Con piacere quest'anno partecipiamo all'annuale sabatino, una cerimonia che sappiamo molto sentita per la Real Maestranza. È una cerimonia molto toccante anche per noi, molto partecipata. Quest'anno siamo con una nutrita rappresentanza proprio per rendere onore al capitano. Presente anche una delegazione dell'Arciconfraternita Santissimo Rosario di Bitonto. Siamo qui per onorare questo impegno con i nostri fratelli di Cattanissetta con cui siamo gemellati dal 2019. Non potevamo mancare a questo impegno del sabatino del capitano così importante per la Real Maestranza e siamo onoratissimi di essere vicini in questo bel momento. Europei, atletica, argento per la Nisce Mese, Alice Mangione. Grande impresa e campionati europei indoor in svolgimento a Istanbul per la Nisce Mese Alice Mangione che insieme ad Iomide Florunzo, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando hanno conquistato la medaglia d'argento nella staffetta 4x400. Una vera e propria protezza autentica quella della Nisce Mese e delle sue compagne che hanno regalato all'atletica italiana l'ennesima medaglia in questi europei in Turchia. Un gran bel riconoscimento a livello europeo per la mancione che conferma il valore dell'atleta siciliana sia a livello nazionale che internazionale. Una medaglia importante per l'atletica italiana è una grande festa per tutta Niscemi che aspetta il ritorno della sua atleta per regalarle il giusto applauso. Calcio Serie D, la San Cataldese vince il derby con il Trapani al Valentino Mazzola di San Cataldo. È stata un'altalena di emozioni con la pioggia del Valentino Mazzola a rendere unica l'atmosfera di San Cataldese Trapani, partita valida per il ventisesimo turno del girone I di Serie D. La giornata Verda Maranto, indetta dalla società per l'occasione, è stata declinata in festa Verda Maranto dalla recita di qualità dei ragazzi di Infantino capaci di superare il Trapani a margine di un emozionante 3-2. Prima parte di match a favore dei padroni di casa, avanti per 2-0, ma la rete nel finale di tempo ha rianimato le speranze dei Granata, bravi a ottenere, pronti via nella ripresa il pari. Ma è soltanto un'illusione perché nel momento più delicato è arrivato il gol di Dagata a vidimare la vittoria della San Cataldese per tre reti a due contro un Trapani Maidomo. Una vittoria preziosissima che fa volare Verda Maranto in settima posizione a 37 punti in classifica, ha soltanto tre passi dalla zona playoff. Questi i risultati della ventisesima giornata del campionato di Serie D, girone I. Castrovillari-Locri 0-1, Cittanovese-Vibonese 1-1, Città 10-Reale-Ragusacalcio 1-1, La Mezzia-Terme-San Luca 1-1, Paternò-Mariglianese 2-0, Real-Aversa-Santa Maria-Cilento 4-1, Canicattili-Cato 0-0, Città di Sant'Agata-Catania 1-2, San Cataldese-Trapani 3-2. Per una classifica che continua a vedere il volo indiscusso in prima posizione del Catania a 69 punti, Locri 52, Città di Sant'Agata 48, La Mezzia-Terme 41, Licata 40, Trapani 39, San Cataldese 37, Vibonese 35, Santa Maria-Cilento e Canicattì 34, San Luca, Ragusa, Castrovillari 29, Città di Acireale 28, Real-Aversa 27, Cittanovese e Paternò 24, chiude la Mariglianese a 17 punti. Cus Palermo vittorioso nel campionato di eccellenza al Tomaselli contro la Nissa che è stata superata dalla penultima in classifica. Una Nissa che non riesce ad uscire dal suo momento di crisi e incredibilmente viene sconvitta al Tomaselli per 2-3 dalla Cus Palermo. Inizio shock per i padroni di casa che in un minuto vanno in svantaggio di due reti. Al decimo minuto punizione per la Cus, intercetta Chi menti ma nel mucchio su respinta Montoro porta in vantaggio gli ospiti. Doccia fredda per i biancoscudati che dopo non appena 60 secondi su cross dalla destra Fofanà di testa riesce a trovare il raddoppio. Nissa in credula che riesce ad entrare in cara alla menzora con il gol di testa di Vignone su assist di esposito. Nella ripresa esce una Nissa galvanizzata dagli spogliatoi che comincia a giocare e creare molte palle da gol ma la porta difesa da Di Salvo sembra stregata sino al 31esimo quando Benivegna riesce a trovare il pari. Sembra il gol della scossa con una Nissa intenzionata a raccogliere l'intera posta in palio ma nei minuti di recupero su una punizione vicino l'aia di rigore nissena Sheriff riesce a trovare il colpo di testa vincente che regala alla Cus tre punti e cala il gelo al Marco Tomaselli con i tifosi che contestano i padroni di casa e attimi di scintille. Adesso il calendario non aiuta gli uomini di Alessio Sferrazza che saranno di scena prima d'Enna e poi in casa con il Misilmeri. A fine gara abbiamo intervistato l'allenatore della Cus Palermo Ferdinando Zappavigna mentre la Nissa ha indotto il silenzio stampa. Sicuramente noi siamo una squadra come si suol dire molto giovane lo dimostra anche il numero di ragazzi che abbiamo impiegato quindi sicuramente dal punto dell'esperienza qualche cosa la possiamo concedere specialmente a squadre blasonate come oggi ad esempio la Nissa però la cosa importante è che questi ragazzi non si danno mai per vinti e diciamo da quando abbiamo iniziato insieme a gennaio questo percorso di crescita devo dire che sta dando i suoi frutti e sicuramente siamo molto contenti per il risultato di oggi. Io per quello che ho visto oggi ho visto una grandissima squadra devo essere onesta e faccio i complimenti al mister della Nissa non è retorica perché è una squadra che gioca bene a calcio lo sapevamo abbiamo sfruttato questa situazione e infatti il primo tempo abbiamo sfruttato due ripartenze andando per fortuna dentro sono molto sincero e quindi ritengo che la Nissa sinceramente non abbia grossi problemi perché comunque mancano sei partite e con la qualità i giocatori che ha sicuramente racimolerà quei pochi punti ecco che mancano per mantenere la categoria assolutamente anche perché ripeto è veramente una squadra di livello. La classifica il primo 19 chiude la Parmonval a 8 E ancora Nissa Sergio Iacona accetta la proposta della presidenza onoraria da parte dell'imprenditore Ciociaro Luca Giovannone. Sergio Iacona ha accettato la proposta di Giovannone che diventerà quindi il presidente onorario della Nissa. In un video pubblicato su Facebook il massimo responsabile della società nissena Sergio Iacona ha accettato la proposta di Luca Giovannone. Sarà quest'ultimo a ricoprire la carica di presidente onorario del nuovo assetto societario annunciato dall'imprenditore nei giorni scorsi. Ho avuto la certezza che Caltanissetta sportiva nei prossimi mesi si troverà a vivere un'opportunità storica direi irripetibile il passaggio di un treno che non può essere perso ed è per questo che ho deciso di accettare con entusiasmo la carica di presidente onorario che onorandomi Luca mi ha offerto anche se non ritengo di essere particolarmente meritevole della stessa. Giovannone ha ribadito la volontà di assumere la carica di presidente. Sarà affiancato da Fabio Maestri un altro imprenditore che attende la trasformazione della Nissa da associazione in società e Arialdo Gianmusso in qualità di consigliere personale. L'obiettivo sarà quello di dare lustro alla città di Caltanissetta attraverso lo sport e quindi la Nissa come veicolo di crescita per tutto il territorio nisseno. Riuscire a ottenere dei successi sportivi importanti, portare la squadra per esempio in categorie nelle quali essa non è mai stata, costituisca un biglietto da visita non indifferente. Vuol dire fare veicolare un'immagine positiva dalla quale possono poi scaturire anche successi di natura diversa. Anche lo sport può cementare una comunità rafforzando il senso di identità, stimolando la voglia di competere e di raggiungere traguardi di tipo comunitario. Allora io invito tutta la Caltanissetta sportiva ad unirsi nella battaglia a sostegno degli ambiziosi traguardi che Luca Giovannone si prefigge e dico che nei prossimi giorni si chiude un'epoca e se ne apre un'altra. Volley serie B2 femminile Albaverde-Caltanissetta affermazione in terra calabra le ragazze nissene puntano sempre al salto di categoria. L'Albaverde cala il poker di vittorie e sbanga torretta di crucoli nella giornata in cui tutte le dirette avversarie vingono incontri contro squadre di bassa classifica e le pallavoliste nissene lanciano un preciso messaggio al campionato. Nella lotta per la B1 la formazione nissena c'è. In un campo difficile contro una fidelista guerrita la compagine nissena si è imposta per 1-3 al termine di una gara rocambolesca e combattutissima. In casa Albaverde non può non essere sottolineata la crescita del gruppo nella gestione della difficoltà con la guida tecnica che ha cercato e trovato le soluzioni grazie anche ad una panchina lunga. Ad 8 gare dal termine della stagione cresce l'autostima del gruppo e l'appuntamento adesso è per sabato 11 marzo quando al pala Canizzaro l'Albaverde incontrerà la Stefanese per cercare la quinta vittoria consecutiva. Volley serie B2 girone M diciottesima giornata La classifica Zafferana 47 Pallavolo Crotone 44 Albaverde 43 Procorri e Ricina 39 Fidelis Torretta 36 Gioiosa e Cuscatania 33 Saracena 25 Funivia Etna 24 Volley Region 21 Bricositi 13 Stefanese 9 Ardens Comiso 7 Chiude Planet a 4 Basket Serie D Invicta inarrestabile Sant'Agata battuto al pala Canizzaro I Nisseni vincono la gara 1 di playoff In promozione Cusn in vetta L'Invicta Basket continua nella sua straordinaria stagione E si aggiudica a gara 1 delle semifinali playoff battendo al pala Canizzaro il Sant'Agata per 83 a 59 Gli uomini del coach Spena hanno tenuto la squadra avversaria in gara sino al secondo tempo Ma negli ultimi due tempi finali i cestisti Nisseni hanno cominciato a giocare sul velluto e per il Sant'Agata non c'è stato nulla da fare Nota di merito per Pari De Giusti e Mattia Talluto che hanno trascinato l'Invicta in questa gara Da segnalare che la gara è iniziata con 40 minuti di ritardo per il cambio del vetro di sospensione del canestro scheggiato durante il pre-gara Partita dura, come abbiamo visto il Sant'Agata non è una squadra che regala niente a nessuno Complimenti a loro per aver tenuto la partita sempre la bilico Poi noi con un super Mattia Talluto oggi Oggi veramente in versione playoff rivista Noi lo conosciamo solo come gran bastatore ma penso che oggi ha dimostrato a tutto il pubblico che ci ha seguito E che ringrazio nuovamente di essere un realizzatore Grande lavoro dei lunghi dentro l'area, Pari De Giusti conferma di essere veterano Samuele Essenziale va sempre al sodo La rotazione con Giccio Lombardo che veniva da tre settimane di stop ci ha dato il respiro Perché ci ha permesso di cambiare tatticamente un po' la difesa C'è stata una partita bella, bombattuta Abbiamo dato il massimo Ovviamente gli avversari hanno lottato pure Ora abbiamo gara 2 domenica prossima Speriamo che andrà bene Vediamo Il Cusn approfittando del riposo dell'Olimpia Ragusa Battendo la Salusport per 70-66 riesce ad agganciare l'Olimpia in testa alla classifica Partita giocata a buon ritmo con i gestisti nisseni che riescono a vincere per sole quattro lunghezze Ma tanto basta per agguandare l'obiettivo prefissato, ossia il primo posto in classifica Basket, promozione, girone D, terza giornata del terzo turno La Fenice Priolo, nuova città di Gela, 45-59 Cusn, Salusport, 70-66 Riposa, Olimpia Ragusa La classifica Cusn e Olimpia Ragusa, 16 Nuova città di Gela e Salusport, 10 La Fenice Priolo, 0 E tutto, vi lascio al Meteo, alle informazioni di pubblica utilità Grazie per l'attenzione, appuntamento rinnovato alle prossime edizioni Amici di Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà ancora correnti umidi occidentali interessare l'Italia portando degli annuvolamenti sul versante tirenico e anche il nord è lambito da sistemi nuvolosi in transito sull'Europa centrale ma in tutti i casi senza grandi precipitazioni Controlliamo intanto la nuvolosità attesa sull'Italia qualche nuvola, come vedete, si vede sul nord Italia legata a questi sistemi nuvolosi sull'Europa centrale e poi si notano anche queste correnti occidentali che investono il versante tirenico però, come vedrete adesso, come precipitazioni davvero poco o nulla qualche fiocchettino di neve che compaierà di tanto in tanto in giornata sulle Alpi di Confine qualche goccia di pioggia tra Levante Ligua e l'Alta Toscana e poi in giornata anche verso il Basso Tireno ma sempre precipitazioni alquanto deboli al nord invece avremo bisogno di piogge ben più significative comunque, in definitiva, ci attende un martedì tutto sommato discreto però con qualche nuvola al nord diciamo qualche fiocco di neve sulle cime alpine di Confine qualche goccia di pioggia sull'Alto Tireno poi a fine giornata anche sulle restanti zone tirreniche arriverà qualche precipitazione invece per il resto non mancheranno ampie zone di sereno e temperature che rimangono relativamente miti ma nei giorni successivi saliranno ancora di più nel weekend supereremo i 20 gradi figuratevi voi per i dettagli sulle vostre zone consultate l'app di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Buonasera Via Edmondo De Amicis Servizio notturno Del Poggio Via Le Luigi Monaco Via Le Luigi Monaco Via Le Luigi Monaco Via Le Luigi Monaco